Siamo qui con l'avvocato Stefano Mele del Carnelutti Studio Legale Associato e con lui vorremmo parlare di normative. Quali saranno le prossime normative a cui dovranno adempiere le aziende nel calendario? Diciamo che il 2018 è un anno abbastanza intenso per le aziende, soprattutto in materia di adeguamento normativo. In particolar modo maggio del 2018 sarà un mese in cui due normative, in particolar modo una direttiva europea che dovrà essere ancora assorbita dal nostro governo, ma soprattutto un regolamento sulla protezione dei dati personali entreranno ufficialmente in vigore o in piena attuazione. Questo comporterà in realtà una parte di una strategia più ampia del legislatore europeo che cerca di arrivare non solo a un livello di sicurezza delle informazioni che sia assolutamente allineato in tutti gli Stati membri, in modo da tutelare anche i cittadini che affidano i dati personali alle aziende, ma anche, e questo è l'obiettivo della direttiva NIS, ma anche con il regolamento generale sulla protezione dei dati, avere una focalizzazione su quella che noi, diciamo ancora un po' erroneamente chiamiamo privacy, ma dovremmo dire appunto protezione dei dati personali, quindi dati delle persone fisiche, su come le aziende dovranno andare a gestire questo dato, proteggere questo dato e soprattutto utilizzare questo dato per fare il loro business. È un percorso abbastanza complesso, soprattutto per quanto riguarda il GDPR, ma è assolutamente fondamentale che passi il concetto che in realtà, per quanto sia brutto o comunque oneroso dover adempiere una normativa, in realtà è una grandissima opportunità per le aziende, perché oggi parlare di sicurezza informatica e di sicurezza delle informazioni, ivi comprese dei dati personali, significa parlare della protezione dei dati dei dipendenti di quell'azienda, dei clienti in particolar modo di quell'azienda e quindi fondamentalmente andare a tutelare il business e soprattutto la solidità nel tempo di questo business da parte delle aziende. Se riusciamo a trasmettere questo cambio epocale, questo salto di qualità culturale che dobbiamo fare e che l'Unione Europea ci chiama a fare, allora vedremo che forse la compliance normativa è un po' meno noiosa ed è un po' meno onerosa. Cosa fa lo studio Carneluti per aiutare in concreto le aziende? Che servizi può offrire? Beh, anzitutto offriamo dei servizi legali, ovviamente. Siamo degli avvocati da sempre specializzati in questo settore, in particolar modo sulla parte di diritto delle tecnologie, di data protection, quindi di protezione dei dati personali, ma anche di cyber security, quindi dell'aspetto anche un po' più tecnico e informatico legato alla compliance normativa. Quindi sicuramente si ha a disposizione un team di esperti non soltanto sotto il punto di vista legale, ma anche sotto il punto di vista tecnico, che insieme all'azienda cerca di aiutare verso questo salto culturale di cui parlavamo e ovviamente verso la compliance normativa che è obbligatoria ed è insomma il mese di maggio è davvero alle porte, quindi occorre davvero muoversi. Grazie.